E' caduto da un'altezza di quasi 4 metri mentre lavorava alla ristrutturazione di un attico in via Catullo. L'operaio, 29enne di origine straniera, ha riportato un serio trauma cranico ed è ricoverato in rianimazione a Cattinara. Le sue condizioni sono definite gravi dai sanitari, anche se non sarebbe in pericolo di vita. L'infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina in uno stabile di via Catullo. Il giovane operaio stava lavorando con un collega alla ristrutturazione dell'appartamento, quando per cause da chiarire è scivolato ed è precipitato da circa 4 metri d'altezza, atterrando fortunatamente all'interno di un terrazzo che ha parzialmente attutito la caduta. Il giovane, come detto, ha riportato un brutto trauma cranico ed è stato prima intubato e poi stabilizzato sul posto dai sanitari. E' stato quindi portato con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara, dove è ricoverato in rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi.